Il Boiano strappa la permanenza in eccellenza con un poker servito all'Olimpia agnonese sul tavolo verde del Colalillo, spedendo i granati in promozione dopo 14 stagioni di Serie D e le ultime 4 nella massima categoria regionale. Le squadre sentono l'importanza della pagara e bisogna aspettare il diciannovesimo quando il Boiano ci prova di testa con Dinucci, pallone alto non di molto. Al ventesimo però i Matesini la sbloccano. Conclusione velenosa di Anciabba deviata sulla traversa da De Biasi, Sabatino la rimette per Scozzeri che piega la resistenza dello stesso De Biasi ed è 1-0. Alla mezz'ora però l'agnonese ci prova su calcio piazzato con Brunetti ma senza fortuna. Nella ripresa all'ottavo si vedono i Granata con Didona che però spedisce alto. Al diciassettesimo il Boiano ribalta il fronde con Scozzeri che calcia verso la porta ma trova il braccio di Litterio per Simonelli di Serna e calcio di rigore. Chiperre la trasforma facendo esplodere di gioia il Colalillo. Cinque minuti dopo però l'agnonese la riapre Abdelazim, lavora un po' un pallone sulla destra dopo il tentativo di scampamorte e serve Litterio il quale fa 1-2. Al trentunesimo altra fiammata agnonese con Didona che vince il duello aereo con Tancini ma la traversa salva Borreca e il Boiano. Al trentaquattresimo i Matesini triplicano il bottino, azione insistita in era di rigore, il pallone arriva a Dinucci che insacca. Da pochi metri il 3-1 che manda in estasi il Colalillo. Non basta ancora perché al quarantaquattresimo lo stesso Dinucci si invola verso la porta e calcia di colla esterno che batte imparabilmente De Biasi per il 4-1 definitivo che sancisce il trionfo bianco-rosso che vale. La permanenza in eccellenza a spese di un agnonese che ha provato a mettere in campo tutto ciò che aveva e ora dovrà ricostruire una base solida su tutti i fronti per tornare pian piano nel calcio che conta.